Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Fio, questo è il canale della mela velenata, oggi vi racconto una nuova storia. Nel 1998 a Los Angeles in California il dominio dello yoga è di un unico e solo Bikram, maestro indiano di fama ormai mondiale. La sua è una disciplina durissima, le sue aule sono infuocate nel vero senso del termine, lo vedrete con me. Tiene le porte sigillate, i pavimenti riscaldati e promette a tutti i suoi allievi che di lì a 90 minuti si ammazzeranno. E in effetti molta gente a metallizzone pensa che quello sarà l'ultimo giorno della loro vita. Ma Bikram non è considerato un sadico, lui ha un carisma davvero unico e nonostante la fatica, quasi tutti portano il proprio fisico e la propria mente oltre al limite pur di compiacerlo. Quello che di Bikram attrae è semplicemente tutto, il fatto che lui sia uno degli ultimi yogi in vita capace di proporre delle posizioni molto rare e potenti, 26 in tutto e due tecniche di respirazione. Ma amano anche il tono della sua voce, le sue movenze, tanto che agli allievi sembra di essere dentro alla palestra con un leone, un uomo che è una forza della natura. A fine anni 90, quando Bikram inizia a spopolare, è universalmente conosciuto ed è molto popolare, nonostante sia un'era non social né di marketing. Bikram infatti non è famoso per ciò che mostra in vetrina, in un intermezzo pubblicitario o su una pagina social, ma perché è solido e concreto. La gente crede di aver finalmente trovato qualcuno che li avrebbe resi perfetti e che avrebbe creduto in loro, anche perché lui non ti coccola di certo, non fa sconti, è spietato. È un professionista molto esigente ed intransigente sia con se stesso ma anche con tutti gli altri ed è famosissimo per passaparola e meglio del sano passaparola non c'è niente. Bikram non è un maestro mediocre, non è un uomo comune. Quando entri nella sua aula lui sembra vedere un potenziale in te, ti guarda dritto negli occhi e sembra parlare alla tua anima. Molte persone vanno da lui perché è insoddisfatte della propria forma fisica e mentale o perché è anche affette da un problema fisico che lui sembra saper trattare. Lui ti dà qualcosa, anzi, come dice proprio lui, ti dà tutto, ma il resto del lavoro lo devi fare tu. Artrite, scogliosi, anche che cedono, lui ti mostra la via e capisce guardandoti, tipo con i raggi laser agli occhi, se sei pigro e indolente o spaventato oppure davvero sofferente. Non è delicato, se sei troppo in carne davanti a tutti ti umilia, ma ti sei visto? Cosa stai facendo per tutto quel grasso? Eppure, nonostante i suoi modi rudi e discutibili, è semplicemente osannato, riesce a smuoverti, ad accendere la miccia per il tuo cambiamento. Questo anche se è molto diretto e talvolta crudele. Le sue osservazioni, certo, ti pungolano, fanno male, ma vanno dritte al centro del bersaglio. Le lezioni, mano a mano che si avanza, diventano al limite della sopportazione umana o della legalità. La gente si spinge oltre il proprio limite e dopo le prime lezioni fatica a muoversi per giorni, ma nonostante questo, per il corpo dicono, è come disintossicarsi, è un risveglio. A livello mentale poi si sperimenta un profondo disagio nelle aule di Bikram, perché devi spingerti oltre il limite fisico e dunque ovviamente anche mentale, per riuscire a trovare un appiglio, una motivazione, qualsiasi cosa per sopportare una tale sofferenza. E dopo avercela fatta, Bikram ti ha conquistato, poi sei suo o sua. Quelle stanze di allenamento somigliano un po' a un girone infernale. Ci sono corpi ammassati, un odore acido e acre, un caldo rovente, ansia da prestazione, i pavimenti sono resi scivolosi dal sudore e talvolta anche da altro. Non tutti riescono ad arrivare fino alla fine della lezione di Bikram. Alcuni demordono e se ne vanno, ma chi arriva fino in fondo sente di aver espulso tutte le tossine nocive, di averle proprio trasudate dai pori, di averle viste stillare dalle copiose gocce di sudore che cadono da ogni fibra del corpo, che sembra disidratarsi certo, ma al tempo stesso che esplode, che rinasce, esplode in una grande energia. Dunque resistere, non arrendersi, anche se il tuo corpo è distrutto, anche se ora conosci muscoli, tendine e cartilagini che non credevi di avere e tu sei lì, molle e disfatto, e Bikram a quel punto inizia a cantare. Bikram è un ometto basso, tonico e flessuoso, concentrato, con un viso di allineamenti dolci e gentili, è una voce melodiosa e questa voce argentina e calma dopo tanta fatica e dolore è come un balsamo per la mente di queste persone distrutte, per questa marea di corpi che gemmono in una pozza di sudore e di lacrime anche ai suoi piedi. Certo, non tutte queste lezioni sono idillia che, ok, Bikram non è sempre suave e dolce, alcune volte non ha un buon comportamento, non ha un buon temperamento, alcune lezioni sono davvero molto difficili da affrontare. Eppure la sua bravura, quello che lui propone, è innegabile, è una garanzia e gli allievi lo sentono sul proprio corpo e sulla mente e quindi gliene sono grati, sentono di aver bisogno di lui e del lavoro con lui, come quando, scusate l'orribile paragone, probabilmente qualcuno sente di aver bisogno di una dipendenza. Tu pensi che non potrai farne a meno per sopravvivere e quindi sei più tollerante, sei disposto a chiudere un occhio verso le cose che non vanno, le cose che non ti tornano. È questo il quadro in cui ci inseriamo. Bikram, quest'uomo idolatrato, apprezzato, temuto anche, ha ovviamente una sua storia e chiaramente non è nato nel successo americano e negli agi, tutt'altro. Viene dalla povertà dell'India, patria dello yoga. Tutto quello che sto per dirvi è ciò che lui ha raccontato divenuto famoso. Quando era solo un bambino, decide di non giocare a palla come tutti gli altri bambini bengalesi, ma viene attratto dall'Istituto di Educazione Fisica di Ghosh. Nel cortile, un giorno, vede 20 bambini che stanno facendo una posizione. Bikram cosa fa? Si ferma, li guarda, ma non rimane affascinato, no. Impareremo a conoscere molto bene il carattere di Bikram e come ragiona. Da bambino Bikram li guarda e pensa. Aspetta un attimo, tutto qui? Quelle cose io le so fare molto meglio. Così si presenta questo adulto nel cortile con il nome di Bikram e da quel giorno si reca la palestra ogni giorno da Ghosh per imparare. Così inizia a frequentare la palestra ogni giorno ed imparare nuove posizioni insieme al maestro della struttura. Quest'uomo di cui vi parlerò anche alla fine della storia diventerà il suo mentore, Bishnu Sharan Ghosh, il fondatore appunto della scuola di Ghosh. Definito quest'uomo dallo stesso Bikram il più grande culturista della salute del ventesimo secolo. Lui chiaramente gli insegna lo yoga e Bikram è assolutamente portato per questa disciplina. Lui diventa ben presto campione nazionale detenendo il titolo per tre anni consecutivi quando ha 11, 12 e 13 anni. Imbattuto, dice lui. Quando arriva la gente si lamenta. Ecco è arrivato Bikram, segareggia lui, per noi è finita. Poi però Bikram dice che gli impongono di ritirarsi e così lui inizia a fare sollevamento pesi. Questa è la disciplina olimpica più difficile per lui. Bikram racconta che nel 1964 avrebbe dovuto ben presto partecipare anche alle Olimpiadi di Tokyo e al 110%, proprio al 110%, avrebbe vinto lui la medaglia d'oro. Ma ahimè, sette giorni prima, il suo assistente ha detto a raccogliere il bilanciere lascia cadere per errore i 210 kg sulla sua gamba sinistra, schiacciandogliela e riducendogliela in poltiglia, polverizzandola. Parlano di amputargli la gamba e Bikram pensa che senza una gamba lui non può certamente vivere. Quindi racconta di essere andato sul ponte di Ovra, a Calcutta, per buttarsi giù. Ma ancora una volta è il suo guru Ghosh a salvarlo. Le hai provate tutte e gli dice vieni da me domani mattina alle 6. E Ghosh ce la fa, guarisce il ginocchio di Bikram con lo yoga in allenamenti che vanno dalle 8, 10, 12 ore al giorno. Sei mesi dopo Bikram è splendida forma, ha perso massa muscolare ed è in grado di fare la complicata posizione del loto alla perfezione. Ed eccola lì la rivelazione, la svolta. Dall'abisso Bikram rinasce e promette al suo guru di consacrare la sua vita allo yoga andando in lungo e in largo per il mondo a guarire le persone, a guarire ginocchia, gambe, schiena, lombi di chi ancora soffre. E guarendo queste persone grazie alle sue tecniche, cioè sue di Bikram, al suo genio. Quindi queste 26 posizioni più 2. Il 4 luglio del 1972 Bikram racconta a terra Donoglulu per incontrare il presidente Nixon affetto da flebite e trombosi. No, non possono di certo amputare la gamba al presidente. Così Bikram lo guarisce in 4 giorni, dice. 4 giorni di trattamenti idroterapici praticando lo Bikram yoga nella vasca da bagno. La mattina del quarto giorno Bikram chiede a Nixon qual è la gamba malata? La destra? Risponde Nixon. O forse la sinistra? Non me lo ricordo più. Ecco il motivo per cui Bikram racconta non ha nemmeno dovuto fare la green card perché gli è stata immediatamente regalata da Nixon come segno di gratitudine. Così, pochi anni dopo, nel 1999, Bikram ha ormai tessuto un impero sfavillante nel cuore di Beverly Hills. Nelle aule dello yoga college Bikram arrivano allievi alle prime armi ma anche insegnanti già formati perché tutti, tutti vogliono imparare da lui lo yoga curativo ed è un vero privilegio. Bikram è ormai diventato una sorta di celebrità e inizia a strutturare i primi corsi per insegnanti. Inizialmente partecipano circa una trentina di persone un numero destinato ad ogni nuovo anno di fine diploma duplicarsi, triplicarsi, centuplicarsi. Ad ogni ingresso di Bikram nelle aule dove insegna gli allievi vanno in visibilio, urlano, si agitano e lui ha creato un vero personaggio intorno a sé con i suoi cappelli, le sue camicie variopinte, le sue movenze molto estrioniche e soprattutto con la sua tenuta da insegnante. Nudo, sudato, con una fascia in testa e uno slip nero minuscolo e attillatissimo che non lascia assolutamente nulla all'immaginazione. In un video dice Forza tesoro, calcio, fidati di me. Tiene sempre anche un microfono. Stende la gamba ad una giovane ragazza e poi aggiunge Ti serve una pedicure, dolcezza. Questo è un po' Bikram, magnanimo e strafottente allo stesso tempo, esaltato, spudorato ma anche benevolo e appassionato. È molto carismatico, è in grado di insegnare inoltre nuove posizioni ad insegnanti esperti che possono così perfezionarsi e in breve tempo le sue aule pullulano di centinaia di persone. Tra queste lui chiaramente ne sceglie alcune che diventano i suoi pupilli soprattutto giovani donne. Tu vieni qui e dopo averla tirata devi diventare un'insegnante. Ad un'altra giovane che vuole frequentare il corso si avvicina e le dice semplicemente tu sarai la migliore. E queste sono chiaramente le fedelissime persone che da questo momento consacreranno la loro vita a lui e allo yoga diplomandosi e diventando insegnanti di Bikram Yoga. Bikram quindi cresce e il suo diventa un franchising con il progetto ambizioso di aprire più di 600 studi tutti con il suo unico stile il Bikram Yoga. lo yoga come disciplina con all'interno insegnanti formati da lui. Non si tratta solo di scolpire il fisico ma di curarlo. Bikram diventa famoso anche nelle emittenti televisive nei giornali che sponsorizzano il suo stile come sì uno stile tortura ma i cui risultati sono evidenti per tendere alla perfezione. E il mondo dove è immerso Bikram è un mondo che vuole la perfezione. Insomma Bikram fa tendenza. Viene chiamato l'uomo dello yoga capace di mettere in riga la sua classe da un milione di studenti e farsi rispettare indossando solo un Rolex e un micro slip. Quindi intorno al suo personaggio esotico e affascinante effettivamente ruota come su un perno tutto il successo di un impero enorme che inizia a creare e lui ci sta al centro. Ama il potere, le attenzioni che gli vengono riservate e ben presto viene da tutti definito Mc Yoga un paragone con il colosso Matt Donald. Bikram afferma pubblicamente che la sua particolare sequenza di cui vi ho parlato 26 posizioni e i due esercizi respiratori è la sua e merita per questo un brevetto. È un uomo io penso di poterlo dire oggettivamente pieno di sé. In breve Bikram diviene chiaramente ricchissimo con una reggia nel cuore di Beverly Hills dotata di un intero parco di auto d'epoca che lui si restaura da solo. Insomma Bikram sarà un uomo che si dipinge come legato al basico all'essenziale allo spirituale ma ma sicuramente le cose belle l'opulenza e al bianco preferisce il colore dorato. Inizia a pubblicizzare sempre di più la sua immagine come il bad boys dello yoga cioè il cattivo ragazzo attorniato da macchine Bentley e Ferrari e fasciato da vestiti in pelle e scarpi di pitone con pose davvero duro ma noi di questo non gliene possiamo fare assolutamente una colpa ok? Però c'è un altro risvolto che riguarda Bikram e parleremo di questo. Bikram inoltre è sposato con una donna Raja Shiri di molti anni più giovani di lui anche lei è esperta in yoga e la coppia ha due bambini. La moglie lo affiancherà sempre fino alla fine rimanendo però un passo dietro a lui cioè proprio alle sue spalle crescendo con il suo impero Bikram deve chiaramente iniziare a fare le cose in modo più serio e dare una cornice legale a tutto questo ambaradam così si affida ad un avvocato che diventa per lui il direttore degli affari legali del college Bikram of India l'avvocatessa Miki Jaffa Bodden di origine indiana che lui fa arrivare direttamente dall'India. La prima cosa che Miki fa è andare ad assistere ad una delle lezioni di Bikram rivolte agli insegnanti queste sono delle lezioni molto importanti per lui perché gli permettono di creare nuovi maestri di Bikram Yoga che poi lavoreranno in nuove sedi appartenenti a Bikram arricchendolo e ovviamente l'unico modo per aprire uno studio di Bikram Yoga è partecipare a questo corso e ottenere il diploma da Bikram è un circolo molto chiuso i corsi che possiamo definire di formazione si tengono all'interno di hotel dislocati in tutto il mondo con aule affollate con più di 500 persone per un costo di 10.000 dollari a testa costo che chiaramente permette a Bikram il lussuoso tenore di vita che ha Miki donna indiana e non è una scelta fatta a caso da Bikram secondo me dice questo sì vedevo in lui lampi di megalomania ma non avevo alcuna idea di quanto malvagio e diabolico stesse per rivelarsi questo a lei e questo a noi il guru dello yoga il corso di formazione è di nove settimane e è da qui che parte lo scandalo le prime tre settimane vengono dedicate a Bikram unicamente tra umiliazioni feroci e benedizioni sdolcinate perché è questo il suo stile così gli allievi pagano 10.000 dollari per essere ferocemente umiliati in pubblico e ricevere qualche bravo o pacca sulla spalla dentro a queste aule è il suo dominio lì dentro lui può tutto è molto vicino alla tirannia in effetti e tra queste allieve c'è la giovanissima e splendida Sara Bno insegnante di yoga lei racconta che durante la sua prima settimana di corso Bikram fa alzare in piedi tutti i suoi allievi e li fa presentare una cosa molto normale età interessi luogo di provenienza e legame con lo yoga Bikram ama ricevere moltissimi complimenti da loro ognuno degli allievi cerca di catturare la sua attenzione di farsi notare è un ambiente chiuso e molto competitivo perché chiaramente da Bikram passa il sostentamento è un ambiente molto tossico la stessa Sara quel giorno lo guarda negli occhi e gli dice Bikram sei meglio del cioccolato Sara in quel momento è molto sincera è grata a quell'uomo perché da tempo non si sente bene ha una lesione alla schiena provocata dalla scogliosi ma finalmente sta molto meglio grazie a Bikram inoltre conosce la storia di Bikram e così inizia a credere di avere moltissime affinità con lui insomma per Sara Bikram è il suo esempio il suo mentore pensa che lui possa capirla certo bisogna soffrire ma al termine dei due mesi e mezzo di corso dopo molti tormenti lei sarebbe sicuramente stata meglio e anche tutti gli altri in queste settimane nove settimane si creano legami e amicizie tra gli allievi quella che viene definita una famiglia dove però ci sono anche molti sgambetti dei competizioni sono tutti molto soddisfatti ed emozionati sentono di essere dei privilegiati a trovarsi lì da ogni parte del mondo sotto di un leader potente come Bikram tutto per loro chiaramente lo ricordo lo hanno anche pagato profumatamente durante le lezioni Bikram lancia loro delle frasi per creare un'intesa inizia una frase e loro la completano a modo mio oppure e il gruppo risponde quella è la porta il cibo migliore è nessun cibo insomma Bikram parla plasma manipola anche le loro menti con Sara Bikram in effetti si comporta in modo diverso ad esempio la chiama Sara con il suo vero nome mentre alle altre allieve per lui insomma sono un po' delle X le chiama con soprannomi come Miss Rosa Miss Parigi e Sara chiaramente come tutti è ben consapevole che per diventare insegnante di yoga una cosa che lei desidera tantissimo come tutti gli altri soprattutto dopo tanti sacrifici sia necessario passare solo da una strada e ci sia assolutamente bisogno solo di una persona Bikram lui è la loro possibilità il mezzo per raggiungere l'obiettivo non c'è un'altra strada se non lui Bikram come vi ho detto sa anche essere molto crudele l'allievo Jakob che poi è il futuro marito di Sara è un insegnante di yoga che negli anni ha perso molti chili ma quando si presenta al corso di Bikram pesa 130 chili si trova quel giorno in seconda fila nella posizione della sedia quindi immaginatevi una persona tipo seduta sospesa quindi piegata senza nulla sotto le datiche Bikram lo guarda e gli dice ritira quel cazzo di stomaco grasso perché non mi piace vedere la pancia che balla ma per Jakob questo trattamento da bollo lo aiuta questo lo dice lui gli dà la spinta per cambiare e così anche lui nonostante la crudeltà di Bikram diventa un fedelissimo di Bikram seppur con il tempo conoscendolo meglio anche Jakob nota di pericolosi campanelli di allarme sulla stabilità mentale di Bikram ad esempio Bikram dice loro di bere moltissima acqua prima di iniziare il corso la mattina e di mangiare tanto questo per far circolare gli elettroliti però appena gli allievi arrivano in aula ben idratati soprattutto lui dice loro scusatemi la pochissima finezza io lo cito se avete il cazzo legateci un laccio intorno e se avete chiudetevela con un tappo questo perché non si può fare la pipì ovviamente non si può fare pausa e un giorno mette a lezione un giovane non potendone più si alza e fa pipì in un angolo dentro ad una bottiglia di plastica e Bikram gli fa i complimenti sempre al microfono gli dice bravo tu hai capito come funziona insomma un ambiente molto tossico con moltissime aspettative e con moltissima ansia da prestazione gli allievi non possono andare in bagno non possono indossare nulla che sia verde bisogna soffrire la temperatura ha i suoi 50 gradi ma Bikram sta in alto su un trono con un condizionatore fresco alle sue spalle solo per lui che gli getta un soffio di aria fresca arriviamo al 2011 Bikram ha 65 anni e sui corsi per insegnanti vanno ancora alla grande rilascia sempre molte interviste dove afferma di essere quasi sovraumano lui non mangia si allena per 24 ore al giorno e non dorme quasi mai neanche 30 ore al mese cioè nemmeno un'ora a notte non incontrerò mai un essere umano in questa terra più puro di me dice proprio questo e allora torniamo a Sara al quarto giorno del suo corso Bikram la convoca nel suo ufficio e le dice allora che cosa vogliamo fare? Sara non capisce che cosa vogliamo fare noi due? vogliamo fidanzarci? vogliamo metterci insieme? Sara rimane sconvolta le cade in sostanza un mito la terra si sgretola sotto i suoi piedi torna in sala poco lucida confusa il suo tappetino è proprio di fronte a lui e lui la osserva con attenzione osserva ogni movimento del suo corpo poi scende e inizia a correggere i suoi movimenti Sara sta facendo la posizione dell'arco che è una posizione in cui viene afferrata la gamba posteriore tirando il piede in alto in sostanza è una sorta di spaccata in piedi scendendo poi verso il basso con il petto Bikram afferra il corpo di Sara le allarga le gambe con molta forza prendole al massimo e poi le lascia cadere di schianto fin qui Sara non ci fa molto caso perché lui a volte fa queste cose ma quello che non le aveva mai fatto prima è di mettersi sopra di lei spingendo il suo corpo contro il suo si strofina proprio contro di lei in arme a terra e le dice di nuovo questo lo racconta Sara che cosa vogliamo fare noi due Sara racconta letteralmente di essere aperta a metà con il petto verso il basso e lui sopra e si sente molto vulnerabile crolla emotivamente e non dimenticherà mai quell'abuso perché un abuso è così si alza in piedi quel giorno mentre Bikram continua come se nulla fosse e se ne va nonostante questo però Sara non riesce ad abbandonare il corso il giorno dopo decide però di cercare consiglio da un componente dello staff di Bikram ma riceve delle risposte molto strane perché quando racconta le avance esplicite del maestro questa persona le dice intanto non sembra stupito e poi le dice solo questo se resti tu devi fare come me devi scendere l'uomo dall'insegnante tra le persone che andremo a conoscere piano piano c'è Liz un medico e fan di Bikram tanto di aver ascoltato per due anni una sua cassetta prima di andare personalmente a conoscerlo alle sue lezioni diventa l'assistente medico alle lezioni e nelle nove settimane di corso di formazione capitano tante cose a questi insegnanti ci sono ad esempio diversi casi di infezioni delle vie respiratorie questo è abbastanza comprensibile dal momento che le stanze sono sovraffollate sono sigillate è molto caldo e la gente espelle anche l'anima ci sono anche spesso svenimenti casi di disidratazione vomito Liz acquisisce fama agli occhi degli allievi anche di Bikram proprio in qualità di medico e viene posta in una posizione di rilievo rispetto agli altri Bikram la fa salire spesso insieme a lui sul palco la ringrazia per far parte del suo entourage e quindi lei entra a far parte del suo entourage a fianco di Raja Shiri la moglie di Bikram anche lei esperta maestra di yoga siamo la tua famiglia le dicono così lei apre le braccia e accoglie ciò che Bikram e la sua famiglia ad offrirle lei considera Bikram un padre così come lo considerano un padre tutte le altre allieve e gli allievi che ogni giorno entrano in sala a sudare vestite solo con un costume da bagno nude esposte piegate attorcigliate Liz lo ammette lo dice proprio lei si fa yoga lì dentro ma una corrente scorre sotterranea l'aula è ricca di stimoli e tensioni sessuali ben percepibili tanto che la quinta settimana del corso viene chiamata la settimana del sesso ad ogni fine lezione uno stuolo di allievi soprattutto allieve si precipitano a massaggiare i Bikram nel petto nelle gambe nei piedi viene massaggiato in continuazione quest'uomo a volte poi la sera verso le 11 lui chiede di vedere alcune delle sue allieve e tra queste allieve c'è la gara per stare con lui c'è molta competizione perché per loro lui è il guru per eccellenza ma soprattutto è colui che le avrebbe rese perfette e sperano anche ricche molte di loro tra queste allieve c'è Mandip che lascia tutto e arriva anche lei dall'India per frequentare il corso di Bikram lei nello specifico si trasferisce lasciando per un periodo un figlio piccolo a sua madre quindi fa davvero di tutto per avere una possibilità e spende anche molti soldi quindi una volta arrivata da Bikram deve farcela quando lei vede Bikram la prima volta lui le chiede se lei sappia fare dei massaggi è la prima cosa che le chiede due giorni dopo questa domanda Bikram fa chiamare la giovane Mandip direttamente dentro alla sua suite sono le due del mattino Bikram senza troppe cerimonie entra nella propria stanza da letto e le comanda di prendere un olio e di iniziare a massaggiarlo Mandip accetta di farlo gli petti nei capelli gli massaggia le spalle e le mani mentre lui parla in continuazione questo ovviamente è il racconto riportato da Mandip lei lo ascolta Bikram si lamenta con lei perché nessuno si prende mai cura di lui lui invece si prende cura di tutti è un uomo che per gli altri dà tutto e lui cosa viene donato mentre lei dice queste cose intanto guida la mano di lei verso il basso verso le sue parti intime poi le dice proprio metti la mano tra le mie cosce e massaggiami il pene però Mandip racconta si ritrae si ridesta come da un brutto incantesimo gli dice non posso tu sei il mio guru io ho un'immagine diversa di te dopo questo incontro Mandip vorrebbe andarsene nonostante tutti i soldi spesi ma Bikram la convince a continuare e le dice con indifferenza che per lui non ha significato nulla e che non sarebbe mai più successo e che questo non doveva precludere il suo percorso vi racconto questi episodi perché da qui è facile raccontare ascoltare ma bisogna anche immedesimarsi in queste persone soprattutto negli allievi innanzitutto molti di loro hanno un'immagine di Bikram molto diversa da quella che poi lui mostrerà sicuramente lui tiene in pugno i suoi allievi è visto quasi come una figura mitologica un semidio passa dall'essere gentile aeroso delicato sboccato in un nanosecondo e durante le sue lezioni se gli gira male arriva a chiamarti caga sotto stronza ma un attimo dopo è il tuo miglior amico eppure per queste persone che sono affamate deprivate distrutte da questa forma di yoga al limite dell'umano lui può dire spesso fare qualsiasi cosa sono proprio in suo potere il corso infatti appunto dura queste nove settimane e si svolge principalmente in questo grande hotel che è scelto per l'occasione e gli allievi fanno veramente di tutto per arrivare alla fine delle nove settimane perché dopo le nove settimane se ottengono il diploma possono lavorare stanno dentro a un ambiente che li depriva perché dormono lì mangiano lì ma seguono anche le lezioni e lo stesso Bikram si trasferisce all'interno dell'hotel nella suite presidenziale come se quello fosse un po' il suo harem e quindi riesce a controllare tutto in questa suite poi appunto invita molti studenti soprattutto giovani donne ma anche altri a guardare film insieme a lui e dal momento che lui dorme pochissimo pretende moltissima compagnia e pretende che le sue allieve salgano in suite a qualsiasi ora e un giorno invita anche Sara Sara nonostante la bruttissima esperienza che ha già avuto con Bikram continua ad andare da lui perché non sa come fare quell'uomo esercita un potere su di lei sa che è molto stupido eppure lo fa ovviamente cerca di andare nella sua suite in gruppo una notte sta guardando un film e mentre è lì sul divano con lui si addormenta perché è tardi e perché è stremata viene svegliata da un collaboratore di Bikram a film ormai terminato ma non riesce ad essere veloce perché non trova nelle scarpe e nella borsa quindi si attarda e rimane da sola quindi i collaboratori gli allievi escono e la lasciano lì Sara prova ad uscire in fretta ma non ci riesce perché racconta Bikram le salta addosso immobilizzandola contro la porta chiusa quindi contro la via di fuga Bikram è seminudo ha solo le mutande e preme il suo corpo contro di lei Sara racconta sente ogni cosa di quell'uomo non riesce ad uscire perché Bikram continua a schiacciarla contro la porta poi inizia a baciarle il collo il seno inizia a strofinarsi contro di lei e le dice questa volta tu sarai mia allora Sara è convinta che a questo punto lui l'avrebbe certamente violentata non sa come ma riesce a spostarlo appena con il gomito a sgusciargli sotto guadagnando la via di fuga però Sara questa volta è sconvolta è molto molto spaventata da lui arriva però quella sera cioè ascoltate comunque a dirgli anche buonanotte mentre scappa perché comunque rimane questa sorta di reverenza verso quest'uomo e paura nelle nove settimane di corso nel frattempo Sara confida qualcuno di questa aggressione infatti come vi ho detto si lega sentimentalmente a Jakob l'allievo in sovrappeso che aveva perso così tanto peso proprio con il corso di Bikram tuttavia Jakob nonostante sia schifato dice con Sara ok che ci vuoi fare insomma lui è Bikram per avanzare professionalmente giunti a questo punto ormai ve l'ho detto diverse volte loro possono solo seguire il corso di Bikram e l'unica yoga riconosciuta all'epoca l'unica che conti davvero che ti faccia guadagnare è la sua quindi queste persone vivono un enorme conflitto hanno fatto moltissimi sacrifici e denunciare gli avanzi di Bikram equivale all'immarginazione professionale e la perdita di tutto quello per cui hanno duramente sudato fino ad allora questo per spiegarvi quello che hanno provato queste persone per gli allievi lui è come un dio cioè è colui che è saper assoluto vi racconto di un'altra allieva della nostra storia che si chiama Larissa Anderson anche lei oggi è un'insegnante di yoga e anche lei allieva di Bikram perché dopo aver sostenuto il corso si può in effetti aprire una propria palestra ma bisogna comunque ottenere il benestare di Bikram prima di ottenere il contratto di locazione quell'uomo in sostanza ti ha per le ha proprio potere sulla vita dei suoi allievi sul futuro Larissa diventa amica di Bikram e viene invitata per un periodo in vacanza nella casa a Los Angeles di Bikram pensate la sua gioia intanto è un ambiente lusosissimo Bikram ha una moglie molto simpatica Rajashiri due bambini un maschietto una femminuccia e così Larissa fa yoga con la moglie di Bikram sta con i bambini aiuta a fare i compiti escono insieme mangiano insieme insomma per lei è un bel periodo con il suo mentore ha stretto contatto con il suo mondo e anche con la sua famiglia quindi lei si sente molto importante però due sere prima di partire accade qualcosa Rajashiri va a dormire prima i bambini sono già andati a dormire e Larissa rimane con Bikram Bikram nel suo copione perfetto inizia a vedere uno dei suoi film preferiti mentre Larissa gli massaggia i piedi Larissa però è molto stanca vorrebbe andare a dormire il volume della tv inoltre è a un livello altissimo molto alto Bikram la convince a restare un altro po' con lui le parla le racconta la trama del film ma lei fatica a sentire perché questo rumore è veramente molto alto quando si gira e si avvicina per sentirlo meglio Bikram scatta in avanti e inizia a baciarla la prende proprio per la testa con forza Larissa indietreggia ma lui di nuovo la ferra e le infila la lingua in bocca quindi è molto chiaro Larissa prova a sfuggirgli Bikram gli dice non voglio questo da te Bikram allora le dice ok ok tranquilla va tutto bene poi si alza la prende per mano e la porta verso la cucina Larissa pensa che lui si sarebbe certamente scusato per il suo comportamento ma non è quello che accade perché lui la sbatte contro un mobile le solleva la gonna le abbassa le mutandine si toglie i boxer e la violenta questo è quello che racconta Larissa la violenta con la moglie e figli in casa è un trama molto profondo per lei lei racconta di essere rimasta lì inerte come una bambola rotta guardando la terra in basso lui finisce si tira sui boxer se ne va sul divano e si siede lasciandola lì e Larissa fa qualcosa di incredibile ancora come Sara si alza si ricompone gli si avvicina lo bacia sulla fronte gli dice buonanotte e se ne va e secondo me in questi casi è la mente che rifiuta quello che è accaduto è una statua di ghiaccio e sotto shock ha paura che lui rientri da lei la mattina dopo Larissa se ne va facendo finta di nulla e poco tempo dopo confiderà ad un'amica la violenza di Bikram solo ad un'amica Larissa però decide di non denunciarlo decide che sarebbe andata avanti con la sua vita che avrebbe insegnato yoga e poco dopo infatti il magnanimo Bikram approva nel 2012 l'apertura della scuola di Larissa sotto le sue insegne a questo punto della storia Bikram è diventato ancora più famoso tutti parlano del Bikram Yoga anche in molti personaggi famosi come ad esempio Sandra Bullock George Clooney Robert Downey Jr Jason Bateman e nelle sue interviste lui è sempre molto sobrio in una di queste dice io sono l'uomo più spirituale che tu abbia mai conosciuto ma tu oggi non sei abbastanza vecchio istruito sveglio intelligente saggio o esperto per capire chi io sia che cosa avrà voluto dire nel frattempo anche Sara sta andando avanti con la sua vita si è diplomata con Bikram continua a sfondare nel mondo dello yoga ma anche altri progetti perché si sposa è una bambina e le sue priorità chiaramente si spostano un giorno la sua bambina di tre anni la guarda estasiata mentre lei sta insegnando ad una classe e le dice mamma io un giorno sarò come te ed insegnerò anche io yoga questa frase detta da sua figlia per Sara è un risveglio è un colpo durissimo pensa no tu non puoi farlo perché tu sarai violentata così quella notte non dorme e decide che ha subito bisogno di un avvocato perché vuole rendere pubblico ciò che Bikram gli ha fatto e denunciare Bikram di molestie sessuali questo diversi anni dopo e quando Bikram ricordiamoci è un uomo estremamente potente ricordiamoci che anche il marito di Sara Jacob è un fedelissimo di Bikram per lui Bikram è un padre inoltre anche lui è un insegnante di yoga Bikram per cui anche per la loro coppia questo è un duro colpo credo che siano rimasti insieme ma comunque per questa famiglia è difficile questa decisione perché è una decisione che comporta tutta una serie di risvolti nella loro vita Sara lo fa e chiaramente la cosa diventa mediatica Sara racconta in televisione quindi chi è il vero Bikram un uomo che insidia le donne che non accetta un no come risposta e Bikram si difende dice che lui non ha bisogno di violentare donne perché lui in realtà nel mondo ha milioni di volontari e pronte per lui però Sara toglie questo velo di purezza che alleggia su Bikram questo velo si solleva si squarcia e moltissime altre persone iniziano a tirare fuori fatti strani che riguardano Bikram la stessa Larissa comprende che non è successo soltanto a lei così si inizia a parlare moltissimo non si parla d'altro e molti dei suoi più fedeli come la dottoressa Litz si schierano dalla parte di Sara contro Bikram così l'impero di Bikram inizia a sbriciolarsi sui social che nel frattempo hanno preso campo in primis Facebook inizia una lotta feroce all'interno del mondo Bikram c'è chi lo accusa e chi lo detesta e chi invece lo difende affermando che gli allieve non erano delle bambine e che gli allieve a loro volta avevano sfruttato Bikram erano state opportuniste e non lo avevano denunciato subito per poter comunque avere un successo economico e sfondare nello Bikram Yoga anche Larissa dopo Sara decide di denunciare la violenza avvenuta anni prima a casa di Bikram chiaramente non è un momento facile per lei deve rispondere ad alcune domande come se fosse quella sera alterata dall'uso di sostanze e alcol e come mai lei non abbia denunciato subito ma sia rimasta a lungo al fianco di Bikram lavorando per lui Larissa ammette che Bikram era una figura fondante per il suo sostentamento e che non era stata abbastanza forte da denunciarlo anche lei racconta quindi le violenze e dopo di lei anche altre persone Bikram nel frattempo si trova alle Hawaii nell'occhio del ciclone si lecca le ferite e soprattutto è rabbioso contro una persona il suo legale l'avvocatessa Miki incolpandola per tutti i suoi guai finanziari e personali ma in realtà il legale di Bikram ha moltissime gate da pelare a causa di Bikram scoppia infatti uno scandalo dietro l'altro Pandora Williams una giovane ragazza dalla pelle nera aveva speso 11.000 dollari per partecipare al corso di Bikram nell'anno 2010 ma quando Pandora arriva nelle aule di Bikram afferma di essere stata immarginata e bullizzata per il colore della sua pelle Bikram le avrebbe detto delle cose irripetibili molto offensive cioè che tutte le donne sono e che vanno da lui solo per allargare le gambe e poi dice noi non vendiamo umore qui vattene portate via questa perché è un cancro quindi stiamo parlando di abusi psicologici e razziali così Pandora assume idee legali porta Bikram in tribunale mentre l'uomo dà segni di squilibrio Miki illegale si reca da lui per fare una videoconferenza e di solito Bikram l'attende in sala ma quella sera si fa trovare nella camera da letto si infila sotto le coperte e poi le fa segno accarizzando il letto di mettersi accanto a lui Miki lo trova disgustoso inquietante e spaventoso perché pensa a questo punto che lui sia un molestatore e ha paura che le faccia del male Miki decide allora di parlare con la moglie di Bikram cercando un'alleanza con lei spiegandole che è ora di rimuoverlo dall'incarico come punta del diamante del Bikram Yoga la sua vita la sua persona si fonda sulla mezzogna ma Rajashiri a sorpresa la minaccia stai attenta e pensa a tua figlia non smuovere le acque e lascia che lui frequenti le sue ragazze pochi giorni dopo questa conversazione Miki racconta di essere letteralmente trascinata da Bikram e di essere pesantemente minacciata anche da lui o ti dimetti o ti succederanno moltissime cose brutte per Miki è l'inizio di una guerra lei stessa si rivolge quindi ad un avvocato l'avvocatessa Carla Minnard che accetta il suo caso a condizione però che la donna lotti fino in fondo affrontando tutto il processo e non patteggiando mai per cifre esorbitanti Miki accetta Miki le racconta dunque come è stata licenziata e minacciata e tutta la sua torbida storia è una donna molto forte e con una grande morale perché a questo punto è disoccupata è lontana da casa ha una figlia piccola appunto anche lei è indiana era stata scelta da Bikram proprio per fare questo lavoro per lui ed era legata a Bikram in tutto Bikram le toglie il visto la rende economicamente a zero le toglie l'auto tutto la lascia praticamente senza niente così andando avanti nell'istruttoria l'avvocato di Miki Carla Minnard si rende conto di quale mondo si cieli dietro il Bikram yoga Bikram è un despota che a volte assume le fattezze di un clown dice lei esercita un grande ascendente sui suoi allievi soprattutto sulle donne arriva a manipolarli le porta a non mettere mai in discussione ciò che lui dice e pensa inoltre appunto per poter avere un futuro aprire uno studio Bikram dopo aver pagato profumatamente e sostenuto il corso tu devi comunque piacere a Bikram devi comunque essere raccomandato da lui quindi è un sistema molto chiuso soffocante che porta Bikram a sempre più soldi e a più potere e soprattutto ha un ciclo infinito di allievi soprattutto donne giovani prigioniere e legate a lui a volte anche disperate per tutti i sacrifici impiegati per arrivare lì all'interno dell'hotel del momento e del suo corso insomma sicuramente non c'è nulla di puro in tutto questo è tutto molto diabolico è un sistema soprattutto molto mertoso dove i suoi fedeli a cominciare dalla moglie Rajashiri collezionista di borse Birkin e di macchine Bentley perché anche lei ama il lusso sanno a quanto pare ma chiudono gli occhi o tacciono per godere dei mille privilegi Rajashiri molto probabilmente sa sa che Bikram ha delle attenzioni particolari per le sue allieve ci vogliono comunque tre anni per imbastire il processo ma ci sono diverse udienze preliminari dove Bikram si mostra in tutto il suo splendore stoico un osso duro che cambia moltissimi avvocati vere squadre di legali si avvale molto spesso del no comment ritarda usa molte strategie Bikram ha molto potere e lo usa lo usa tutto i suoi legali tentano di far tacere le altre due avvocatesse di zettirle di intimidirle di provocarle Bikram ha un atteggiamento fortemente misogino vi assicuro ho visto i video soprattutto perché l'avvocato che lo incalza e che lo ha portato in tribunale è una donna è molto aggressivo la deride la tratta come un essere inferiore il che è in effetti un bene per la difesa anzi è proprio splendido che lui faccia così perché quando viene provocato la vera natura di Bikram viene fuori ed è quello che serve ad esempio in uno di questi scontri Bikram dà a Carla Minnard dell'asino che non sarebbe mai divenuto un cavallo per questo ti serve Bikram lui non riesce a sostenere un confronto civile fuori dai suoi giochi psicologici in un altro confronto ancora l'avvocatessa Minnard gli chiede lei ha detto che ci sono tre cose che non le piacciono ma lui la interrompe non tre quattro il clima freddo il cibo freddo il cuore freddo e la f***a fredda non l'aveva completata la completo io ora insomma si distrugge con questo atteggiamento con le sue mani finalmente nel 2016 inizia il vero processo in aula a Los Angeles l'accusa è di aver licenziato il suo avvocato per avere sollevato il problema sulle molestie sessuali di cui è accusato diciamo che questo ovviamente è un processo civile non penale quindi comunque Bicram nel caso di Michi viene esaminato per diversi reati discriminazioni di genere molestie ingiusto licenziamento a fronteggiarlo chiaramente c'è Michi e la sua avvocatessa due donne forti e tenaci che non hanno paura di lui Bicram in aula invece è infastidito da loro chiede più volte ai suoi avvocati di spostare le loro sedie in modo che l'avvocatessa Carla Minard non gli desse mai le spalle non fosse mai troppo vicina a lui chiede anche al suo avvocato di fare la richiesta sentito un po' proprio diretta al giudice di tenere l'avvocatessa lontana da lui in aula e il giudice gli risponde che l'avvocatessa Carla Minard è libera di andare dove vuole nell'aula gli avvocati di Bicram sono disperati all'idea che lui testimoni perché l'uomo non riesce assolutamente a controllarsi e veramente è il peggior testimone che ci possa essere racconta anche cose assurde si rende anche ridicolo ad esempio lui racconta di essere senza reddito di essere in bancarotta di vivere con i soldi presi in prestito dalla sua famiglia ma quando gli chiedono come mai i figli che sono ormai di ragazzi postino delle foto sui social conferrare i nuovi di zecca o shopping folli su rodeo drive o la moglie con una nuova Bentley acquistata una settimana prima allora lui inizia ad agitarsi e inizia a dire che quelle auto non sono le sue ma che sono dello stato della California racconta di avere un accordo con il governatore di allora Jerry Brown che lui avrebbe a un certo punto ceduto tutte quelle auto allo stato della California e in cambio il governatore avrebbe costruito una scuola di ingegneria con il suo nome la scuola di ingegneria di Bikram per bambini per costruire nuove Bentley a questa sua affermazione tutta la giuria scoppia in una fragorosa risata queste sono le deposizioni di Bikram Bikram inoltre racconta altre delle sue storie che ora appaiono come delle favole in cui l'aula ad esempio racconta di aver guarito il presidente Nixon e in cambio di aver ottenuto subito la green card i legali contattano la biblioteca di Nixon per verificare ma il nome di Bikram non compare mai negli archivi mai quindi questa storia insomma non risulta però Bikram anche di fronte alle prove non si arrende va avanti fa il pollice ai suoi evocati continua a raccontare e a dire che tutto ciò che lui espone è vero insomma sembra una persona a questo punto disperata poco lucida dissociata dalla realtà anche a Calcutta nel frattempo iniziano delle ricerche su queste radici incerte di Bikram se ne occupa la giornalista indiana Chandrima Palm ed è tutto effettivamente molto strano perché quando si parla di lui e si compara a ciò che lui ha raccontato pubblicamente nelle sue interviste in televisione per anni con la realtà verificata le cose non tornano ad esempio Bikram aveva detto di essere stato da bambino tre volte campione nazionale di yoga ma è molto difficile anzi è impossibile perché quando era piccolo non esisteva la disciplina yoga a livello agonistico sì lui aveva fatto bodybuilding alternato spettacoli acrobatici ma soprattutto lui proclamava ovunque che lui è l'uomo più intelligente del mondo perché ha creato una sequenza di 26 posizioni e due esercizi di respirazione una cosa inedita e che funziona però anche qui facendo delle ricerche e interpellando i massimi esperti di yoga della sua generazione a Calcutta si scopre senza troppa fatica che quelle 26 posizioni più due esistevano già prima di Bikram e non le ha inventate lui quindi se questo è vero Bikram è anche un impostore cioè tutto quello che lui insegnava e spacciava come il suo era in realtà farina del sacco del suo maestro Bishnu Ghosh un vero leader ed idolo in India un uomo molto umile molto competente un grande terapista quindi se questo fosse vero lui ha spacciato al mondo lo yoga di Ghosh per il suo per il Bikram Yoga alcuni allievi di Ghosh sapevano perfettamente che il vero maestro era lui il 26 più 2 dicono non è il Bikram Yoga ed è indicato sull'opuscolo manuale cura yoga del maestro Ghosh quindi assolutamente verificabile e oggettivo solo che nessuno nel mondo e in America possedeva questo puscolo perché non era stato pubblicato dentro questo libricino le posizioni sono tutte lì e sono illustrate fino al numero 26 e a seguito di questa indagine l'opuscolo viene finalmente pubblicato riabilitando il nome e il lavoro dello Yoji Ghosh perché infatti le coppie erano pochissime ed erano possedute solo da qualche allievo del maestro ad ogni modo la giuria delibera dopo un giorno e mezzo soltanto e si esprimono a favore di Michi tutti nessuno escluso è il 2016 e Bikram deve pagare 7 milioni e mezzo di danni a Michi il verdetto stabilisce che Bikram ha agito con malizia con inganno e soprattutto con oppressione Michi però non lo fa per soldi dice lei ha un altro obiettivo dimostrare a sua figlia che può opporsi e resistere e non piegare la testa ai potenti non avere paura all'uscita dal tribunale Bikram per la prima volta scappa ma la sua non è una falcata da guru si sottrae per una volta l'attenzione delle telecamere per una volta cercando un'ombra dove rintanarsi è stato un colpo molto duro per lui e una settimana dopo Bikram fugge va via dall'America Bikram a questo punto viene ancora accusato pubblicamente di molestie sessuali e occultamento di beni le autorità credono che lui abbia fondi segreti e fuggendo Bikram non ha mai scontato la sua pena pare che lui e sua moglie abbiano messo in scena un finto divorzio così tutti i suoi beni passano alla moglie Rajashiri per proteggere il patrimonio dal verdetto e per non pagare Miki quindi Miki non riceve un centesimo Bikram viene rintracciato tempo dopo in Thailandia nel 2017 ma gli ufficiali giudiziari vengono aggrediti mentre tentano di portargli le notifiche giudiziarie lui li sbatte fuori dalla sua proprietà e dice loro che con la sentenza lui ci si pulisce abbiamo capito questo perché allontanandosi dalla giurisdizione il tribunale civile non può fare molto per Miki ed è per questo che Miki non prende un centesimo a questo punto Bikram ha 70 anni ma non verrà mai accusato formalmente premolestie quindi non sosterrà mai un processo penale perché forse perché è un uomo molto ricco e potente ci sono almeno 10 donne 6 proprio dirette che affermano di essere state abusate da Bikram ma nonostante questo lui non verrà mai perseguito Carla Minnard non ha mai ricevuto una risposta alle sue molte domande per ottenere un processo penale speravano che dopo il processo civile si aprisse un processo penale di poter usare anche le deposizioni che Bikram aveva reso nel processo civile Bikram infatti si era appellato moltissime volte al quinto emendamento tutte le volte che si parlava di molestie sessuali appellarsi al quinto emendamento è più o meno in gergo una missione di colpa ogni volta che gli chiedevano se avesse avuto rapporti con le sue studenti lui non rispondeva grazie appunto al quinto emendamento purtroppo molte donne come Sara e Larissa che avrebbero voluto fare causa a Bikram devono fare un passo indietro perché devono affrontare un processo contro un fantasma perché lui non si sarebbe mai presentato così a loro sarebbe rimasta la vergogna il dolore lo stress e le spese legali Sara e Larissa vorrebbero combattere ma lui non c'è più è ormai molto anziano è ricco è protetto i suoi allievi storici come Jacob la dottoressa Liz e molti altri hanno visto sgretolarsi tutto ciò in cui hanno creduto nella loro vita anni di sudore e sacrifici molti di loro non potendo più insegnare lo Bikram Yoga perché era un'utopia nonostante lo Bikram Yoga ancora oggi esista hanno deciso di cambiare il nome ai propri studi perché per loro non era più sensato non aveva più senso lavorare sotto le sue insegne ma è stato un processo di grande sofferenza perché per molti di loro Bikram in effetti era stato un aiuto si era sempre comportato bene aveva dato loro la forza di cambiare e di lottare Bikram comunque avrà pure perso il suo castello dorato ma non ha perso tutto molte donne invece sì la lista di donne e anche di ragazzine cresce ad esempio Jill aveva appena 18 anni quando Bikram se lo tira fuori chiedendole di leccarglielo e poi la tiene ferma giù violentandola questo è quello che racconta Jill no no diceva Jill lui non ha mai pagato rimangono sette pagine di lettra che Jill ha scritto e pubblicato con un inchiostro sbavato dalle sue lacrime come vi dicevo molti allievi di Bikram hanno cambiato il nome dei loro studi perché si vergognavano hanno cercato di ripulirsi da lui ma c'è anche chi ancora oggi lo difende e spera nel suo ritorno molti credono che l'unico modo invece per distruggere Bikram è non parlare più di lui è farlo scivolare nell'ublio non insegnare più sotto il suo nome e soprattutto non frequentare più i suoi corsi ma purtroppo a volte anzi troppo spesso il mondo gira nel modo inverso come dovrebbe perché ci sono ancora i corsi di Bikram Bikram è andato in Messico dove ha avviato altri corsi per insegnanti e ha continuato probabilmente a vivere come ha sempre vissuto gli studi quindi continuano a mandargli nuove allieve nuova carne fresca e lui guadagna c'è una foto del 2018 dove Bikram è in un'aula in alto trionfante sul suo scranno con gli immancabili microslip e sotto di lui c'è una marea di giovani donne semisvestite sudate e uomini sorridenti ma tutti quei sorrisi saranno veri? oggi Bikram è ancora un fuggitivo per gli Stati Uniti non ha mai ricevuto atti d'accusa penali o mandati di estradizione formali nel 2019 Spagna ha imbastito il suo più grande corso per insegnanti dove hanno partecipato moltissime persone nonostante appunto le accuse che Bikram ha ricevuto da molte donne nei tribunali civili e americani sono state presentate in tutto come vi dicevo sei casi proprio di violenza completa ma alla fine quattro donne hanno patteggiato sia Sara che Larissa questo è tutto quello che ho ritrovato nelle mie fonti c'è un documentario su Netflix e tutto quello che vi ho raccontato ovviamente deriva da testimonianze che sono state rese dalle persone che ho citato io vi ringrazio anche oggi per essere stati in mia compagnia al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti Grazie.